Rosa Moceniga di The Merchant of Venice è l'unico profumo al mondo che contenga estratto di rosa Moceniga. Vi avevo detto prima quindi in profumeria si usano unicamente la rosa damascena e la rosa centifolia ebbene no. C'è la possibilità di utilizzare anche altre tipologie di rosa. Come abbiamo ricordato le considerazioni sono di carattere economico quindi il ricorso a delle cultivar particolari si limita alla volontà di ottenere risultati particolari e speciali. Non è impossibile però è difficile, complicato, costoso quindi viene riservato a casi veramente eccezionali. Questo è uno di quelli. La rosa Moceniga è considerata come vi dicevo la rosa di Venezia ed è quindi protagonista di un profumo di The Merchant of Venice che è una società fortemente radicata nel territorio originario che è quello veneziano e è una totale celebrazione di questa città l'unica al mondo appunto ad utilizzare il questo tipo di profumo di estratto, questo tipo di rosa. Il profumo di rosa Moceniga è molto forte, molto fruttato, è una fragranza decisamente femminile che mette assolutamente in risalto la bellezza di questa rosa nella sua espressione naturale più affascinante e ha una piramide olfattiva che si compone di note di testa, quindi le prime che arrivano alla nostra percezione basate appunto sull'essenza di rosa Moceniga associata a foglie di ribes nero e al limone di sicilia. Le note di cuore si giocano attorno alla trasparenza, all'acquaticità del fiore di loto e al biancora la delicatezza cremosa della magnolia e le note di fondo invece sono basate sulla dolcezza dell'assoluta di vaniglia, sulla sfaccettatura ombrosa dei cristalli d'ambra, sul legno di cedro bianco, quindi sempre trasparenza, elevazione, chiarezza e sulla profondità sensuale del muschio, quindi abbiamo un profumo veramente importante e interessante. La rosa è stata protagonista di grandissimi profumi, sempre protagonista della profumeria sin dall'antichità, ne abbiamo parlato, abbiamo ricordato il Rodinon, ma arriviamo ai primi del Novecento, quando fa la storia della profumeria, è il fiore più alla moda, possiamo ricordare dei profumi famosissimi, come ad esempio la rose jacqueminot di François Coty, che ne ha segnato il lancio come profumiere nel mondo appunto della profumeria e l'ascesa nella carriera in questo mondo. Possiamo pensare alla presenza di rosa centifolia in numero 5 di Chanel, profumo degli anni venti, per arrivare a tempi più recenti con Paris, Yves Saint Laurent, omaggio e canto della città di Parigi su note fiorite e boise, tutte giocate attorno alla rosa, alla violetta e all'iris, fino alle numerosissime suggestioni che ci dà la profumeria artistica, alla profumeria di nicchia in tempi recentissimi. Il caso però profumato, The Case Study, su cui io vorrei fermarmi un attimo, è quello di Christian Dior e le rose di Grasse, perché veramente è di pochi giorni fa una notizia, la storia si fa anche con le pubblicazioni, una notizia uscita su Io Donna dell'ultima settimana di settembre, che vede la rielaborazione del profumo di Miss Dior. Io sono particolarmente legata a Christian Dior e a Grasse perché qualche anno fa ebbi l'occasione di tradurre delle didascalie per una mostra che il Museo Internazionale della parfumeria di Grasse dedicava proprio alla produzione profumata di Christian Dior, intitolata Christian Dior e lo spirito del profumo. E quindi ho avuto modo di approfondire il profondo rapporto che legava Dior al territorio provenzale, grandissimo produttore di materie prime autoctone utilizzate nei più pregiati profumi francesi. E quindi mi piacerebbe parlare un po' più approfonditamente con voi di questo argomento. In primo luogo dobbiamo contestualizzare l'epoca di riferimento, il secondo dopoguerra. Appena termina la seconda guerra mondiale si annunciano tempi nuovi, i sarti impongono fragranze di carattere, i profumi celebrano il ritorno della pace. A quell'epoca Christian Dior era l'amante di un produttore di stoffe, il quale gli suggerisce l'idea di creare degli abiti che abbandonassero lo stile epurato di anteguerra. Pensiamo ai tubini Chanel e in cui la profusione di stoffe fosse quasi barocca. E qui se ne parla proprio. ci dice riguardo al new look, quindi la collezione di Dior, dalla vita stretta, le spalle larghe, le ricchissime gonne a corolla che risvegliarono la moda dopo i tempi bui della seconda guerra mondiale. Quindi la volontà è questa e c'è anche la volontà di spendere. Quindi Dior costruisce questa collezione in modo veramente opulento, con una grandissima profusione di stoffe, la presenta al pubblico e per la prima volta giungono anche compratori americani dopo tanto tempo e questo farà esclamare a una giornalista appunto americana. It's a new look e questo dà il nome alla collezione, a mio avviso, la più bella nella storia della moda. Ecco, questa collezione ha una interpretazione olfattiva che nasce nel 1947 ed è Miss Dior. Esaltata dai flaconi creati da una grande manifattura francese, quale quella di Baccarat, è un profumo che rispecchia questo sentimento di opulenza, perché Dior introduce un quantitativo di materia prima profumata di gran lunga, maggiore rispetto a quelli usati da tutte le altre case profumiere e rispetto all'usanza dell'epoca. Quindi si crea proprio un prodotto di rottura con il passato aperto e rivolto verso un futuro luminoso radioso di progresso. Per realizzare questa sorta di miracolo, Christian Dior fa uso di fiori che, come vi dicevo, sono espressione massima del terroir, quindi del territorio provenzale. Per quale motivo? Perché Dior ha un profondo rapporto con la Provenza. Normanno di origine, rampollo di una famiglia di imprenditori, le vicende familiari non vanno benissimo, quindi la famiglia si trasferisce dalla Natia Normandia a Parigi. Durante la guerra, Dior è molto spesso ospite, quindi negli anni quaranta, della sorella Catherine che a Caillant, in Provenza, coltiva frutta, verdura, ortaggi e si innamora di questo territorio, di questo luogo che vede come un luogo di pace, di luce, di apertura, di tranquillità, così diverso dalla vita frenetica che conduce a Parigi. Si ricorda di tutto ciò e quindi torna nel 1950 e acquisisce una tenuta del diciottesimo secolo, lo Château de la Colle Noire, situato all'ingresso della località di Monton. Questa tenuta è circondata non soltanto da uno splendido giardino, ma anche da un terreno agricolo. Quindi lo stesso Monsieur Dior decide di sfruttare questo terreno impiantandoci delle coltivazioni di frutta e di verdura, esattamente come sua sorella, e anche però di fiori tipici del territorio, fiori da profumi. La rosa centifolia, il gelsomino, la lavanda e insieme agli adorati mughetti che saranno protagonisti di un profumo di oro, ma dobbiamo ricordare che i mughetti non producono olio essenziale, cioè non si può distillare l'essenza del mughetto. Il mughetto va riprodotto in laboratorio, quindi insieme ai mughetti queste materie prime naturali costituiranno la base dei suoi profumi, tra cui appunto Miss Dior che nelle intenzioni dello stilista è l'essenza stessa del new look e come vi dicevo è articolato attorno a delle fragranze tipicamente provenzali quale quelle della rosa e del gelsomino. Una delle altre caratteristiche che ha contraddistinto la produzione profumiera della Maison Dior, parlo di Maison perché Dior purtroppo muore a 50 anni nel 57 durante una vacanza a Montecatini per un attacco cardiaco, quindi la Maison prosegue il suo iter mantenendo però la scelta di Monsieur Dior di rivolgersi sempre e soltanto unicamente a dei nasi di grassa per la realizzazione dei propri profumi. E in anni più recenti la Maison restaura anche lo Château de la Colle Noire e vi inserisce, vi insedia il proprio centro per la ricerca, lo studio e l'elaborazione dei profumi sotto la guida di François de Magy che è il naso storico della Maison Dior. Qualche settimana fa, sempre appunto alla fine di settembre, mi trovavo a Milano e sono stata colpita dalla comparsa di una pensilina della fermata del tram particolarmente bella, fiorita, decorata. Guardando più accuratamente vi ho visto appunto quanto narrato in questo articolo comparso su Io Donna la stessa giornata, cioè che Miss Dior è stato rieditato con un nuovo sentore. A mio avviso questi esperimenti non sono particolarmente corretti, nel senso che laddove noi abbiamo una fragranza storica con il suo nome, se andiamo a intervenire sulla formula e la cambiamo, onestà intellettuale e creativa vorrebbe anche che cambiassimo il nome di questa fragranza, non continuassimo a chiamare per esempio Miss Dior qualcosa che del Miss Dior originale non ha minimamente più l'odore e il ricordo. Ovviamente le leggi del marketing hanno altri, fanno altre considerazioni, quindi abbiamo un Miss Dior oggi che è decisamente cambiato rispetto a quello che era nel 1947. Quindi se vogliamo conoscere la storia del profumo anche sentendolo con il nostro naso, l'unico luogo in cui noi possiamo trovare la riproduzione delle formule storiche è l'Osmotec di Versailles, quindi il Conservatorio dei Profumi di Versailles. Ecco, per quanto riguarda questa nuova versione di Miss Dior, che comunque è un esperimento interessante, appunto si rifà alla versione del 1947, omaggio di Christian Dior alla sorella Catherine, di cui abbiamo parlato, che era l'anima della sua atelier e massima icona di eleganza, interprete dello spirito Dior e che ha coltivato le rose per la Maison Dior fino alla sua morte, quindi ancora molto dopo la morte del fratello. Ecco, era un omaggio ed era un qualcosa che nasceva dopo i tempi bui della guerra. Quindi l'esperimento che si è voluto fare ora è proprio quello. Anche noi usciamo dal periodo pandemico, speriamo di uscirne quantomeno, e quindi da un periodo particolarmente buio, e c'è bisogno di un nuovo profumo, di nuovi sentori, e quindi che viene adattato al presente. De Masci dice proprio, Il mondo con la pandemia è molto cambiato e Miss Dior anche. Com'è stato prodotto il profumo? Con che messaggio si propone ai compratori? De Masci afferma, Il mio desiderio era imbottigliare luminosità e leggerezza, farne una celebrazione di femminilità come antidoto alla pesantezza dei tempi. E ciò che succede al primo spruzzo, fiori, fiori e ancora fiori, una ventata frizzante, scintillante, poi morbida e sensuale. Per farlo è stata mutata anche la rosa in esso contenuta, non più la tradizionale centifolia, ma una nuova rosa che François de Masci ha incontrato nel giardino privato di Carole Biancalanat, che è la fornitrice ufficiale ed esclusiva di rose della Maison Dior, e lui dice, appena l'ho scoperta a maggio nel 2020 per caso, ho immediatamente pensato, è molto Dior, ma in maniera più contemporanea e dolce del solito. Così abbiamo pensato di chiamarla Sweet Rose, ricca di potenti sfumature olfattive, è stata la mia base di partenza creativa, così radiosa, esplosiva, avvolgente, con picchi golosi e vivaci assolutamente inaspettati. Come è stato costruito il profumo? Ho mantenuto la struttura floreale cipre, arrotondando la rosa con il gelsomino di grassa, che regala luminosità, poi con un iris, nota pudré, vellutata, quasi terrosa e umida, che conferisce profondità. A dare un ulteriore twist fruttato, la peonia, fiore dal sentore delicatissimo, impossibile da estrarre. L'ho ricreato con una miscela di rosa, prugna e pesca, così che risultasse fruttata, ma fresca ed elegante. Poi nel fondo ho pensato ai legni, un tocco di vaniglia di papua, benzoino, legno di sandalo, che formano una scia di solido ottimismo. Vedete quanto lavorio cerebrale c'è dietro la nascita di un profumo. Ecco, a questo punto arriviamo alla parte più pratica del nostro laboratorio, le ricette di autoproduzione. Ho pensato di suggerirvi delle ricette molto molto facili di realizzazioni, scegliendo un profumo a base alcolica e un profumo invece solido. Per quanto riguarda il profumo a base alcolica per cui potete utilizzare rose del vostro giardino, vi inviterei a considerarlo più che altro una base per un profumo, contenente l'anima della rosa, a cui aggiungere successivamente delle gocce di fragranza per profumaria di rosa o di olio essenziale di rosa, se volete realizzare un profumo prettamente botanico. Quello che ci servirà saranno 180 grammi di petali di rosa freschi. A seconda delle dimensioni delle rose che avete a vostra disposizione, vi suggerisco di usare rose molto profumate, si tratterà da una a tre rose più o meno. A queste avremo bisogno di aggiungere 120 ml di vodka, quindi dell'alcol, una base alcolica a 40-50 gradi e 600 ml di acqua distillata. Inizialmente dovrete cominciare con lo sciacquare delicatamente le rose con dell'acqua fredda, senza aprirle, senza andare in mezzo ai petali e non usando acqua calda per non disperdere gli oli aromatici che esse contengono. Poi ottenere i 180 grammi di petali, quindi impugnare il gambo stretto in una mano e tirare i petali con l'altra facendo bene attenzione a non pungersi con le spine. Dopodiché prenderete un barattolo dotato di coperchio che abbia una capienza interessante, quindi uno o due litri, anche se io vi consiglio di usare poca acqua, quindi potrebbe anche essere un po' più piccolo. Nel barattolo mettere i petali, dopodiché coprirli con i 120 ml di vodka e lasciarli macerare per 24 ore, riponendo il barattolo in un luogo fresco e al buio. Non va messo in frigorifero perché l'ambiente lì sarebbe troppo umido. I petali devono riposare per un periodo di 4-7 giorni, anche di più avendo tempo a disposizione. Durante questi giorni in cui i petali riposano bisognerà giornalmente, quotidianamente, riprendere il barattolo, aprirlo e con un cucchiaio di legno pestare direttamente nel barattolo i petali delle rose. Questo perché se noi togliessimo i petali e pestassimo nel mortaio si perderebbe parte della materia prima necessaria. Quindi è meglio fare quest'operazione nel barattolo. Nel contempo bisogna stare attenti a non romperlo pestando con eccessiva violenza. Vi ho parlato di cucchiaio di legno perché l'uso di materiali in metallo creerebbe delle contaminazioni. Quindi bisogna ricorrere a un cucchiaio di legno pulito. Quando si è completata quest'opera di ulteriore battitura dei petali si richiude velocemente il barattolo e lo si ripone nuovamente nel suo luogo di custodia fresco e buio. terminato il periodo di riposo si potrà filtrare il profumo ottenuto o la tintura madre ottenuta con un panno in mussola. Io consiglierei di ottenere soltanto questa base alcolica. Per chi amasse delle profumazioni meno intense e quindi volesse solo una sfumatura, un accenno c'è la possibilità di versare dell'acqua o dell'idrolato di rosa all'interno del barattolo. Nel momento in cui si schiacciano i petali dopo il primo giorno di macerazione si aggiungerà appunto la parte apposa. Ovviamente più diluite meno il profumo sarà intenso. Questa è una ricetta che ci è data da Vicky Howe. Con questa dopo aver filtrato la preparazione si trasferirà in una boccetta di vetro pulita possibilmente di vetro scuro che si possa chiudere ermeticamente. Io lo considero una buona base a cui aggiungere poi il quantitativo desiderato di olio essenziale di rosa o di fragranza per profumeria alla rosa per ottenere un profumo Soliflor a base alcolica appunto alla rosa. La seconda ricetta che vi lascio viene da Macrolibrarsi ed è quella di un profumo solido alla rosa. Avremo bisogno di 50 ml di olio di albicocca 50 grammi di cera d'api 15 gocce di olio essenziale di rosa 15 gocce di olio essenziale di lavanda e 15 gocce di olio essenziale di ylang-ylang. scioglieremo a bagnomaria la cera d'api vi aggiungeremo l'olio di albicocca mantenendo il recipiente a bagnomaria e abbassando al minimo la fiamma fino ad aver amalgamato alla perfezione proprio gli oli. Poi toglieremo il tutto dal fuoco e aggiungeremo gli oli essenziali. Mescoleremo di nuovo e verseremo in un barattolo con un tappo a chiusura ermetica che lasceremo leggermente aperto e chiuderemo nel momento in cui il composto si sarà raffreddato. Questo profumo per via degli oli essenziali che vi sono contenuti ha delle caratteristiche particolarmente benefiche. Si ricollega a quel concetto di rincuorarsi di cui vi ho parlato prima. La rosa porta pace nel cuore la lavanda sedativa assopisce lascia cadere le preoccupazioni e lo ylang ylang è fluido permette veramente che i pensieri se ne vadano collegato alla dimensione yin all'acqua, alla femminilità. Quindi potrete usarlo non solo come profumo se vi piace ma anche proprio come profumo che cura sui polsi dietro le orecchie sulle tempie sul plesso solare nel momento in cui vi sentite il il respiro compresso sul cuore. Non avremo più schede però ci sarebbe un'ulteriore possibilità di ricetta di autoproduzione che posso raccontarvi che è quella invece di un tonico di un detergente per il viso la ricetta è di Maghella di casa trovata su Facebook si utilizzano 50 grammi di olio di vinaccioli all'interno di un contenitore di vetro scuro che vengono fatti sormontare da altrettanti grammi di millilitri di idrolato di rosa si crea un detergente bifasico quindi prima di ciascun utilizzo la boccetta andrà agitata personalmente basandomi su delle indicazioni di un testo che amo molto che è gocce di bellezza aggiungo anche sei gocce di olio essenziale di limone sei quattro gocce di olio essenziale di rosa e due gocce di olio essenziale di ylang ylang che sono delle toccasana per la pelle soprattutto quella non più giovanissima con questo abbiamo concluso la nostra carrellata sulle rose e vi do appuntamento a uno dei prossimi incontri nel nostro laboratorio profumato Papi Jou grazie ancora a presto